Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Questa è ancora la storia di un bandito, ma un bandito molto particolare, di quelli che un po' ci piacciono anche se stanno dalla parte del crimine, dove non ci dovrebbe stare nessuno. Ecco, lui, Willis Sutton, è un tipo così, uno strano bandito che nonostante tutto proprio non ci riesce ad essere antipatico. Spettiamoci la scena come in un film, come se fosse una sceneggiatura. Interno, gioielleria, giorno. Siamo al 164 di Jamaica Street, nel quartiere dei Queens a New York. È la mattina del 22 marzo 1930. La H&L Gross Jewelry Store è un grande negozio che occupa due numeri civici, praticamente un ingrosso di gioielli, pietre preziose e oggetti d'oro. Dentro, assieme ai clienti e ai due commessi al padrone, c'è un tipo ben vestito, completo gessato e cappello. Osserve i gioielli nelle vetrine mentre sbriciola frammenti di tabacco Bull Durham dentro una cartina, che arrotola con cura per fabbricarsi una sigaretta. È assorto, come se stesse valutando bene cosa comprare e nessuno ci fa caso. In realtà sta guardando alcune cose e un paio di queste fanno rigorosamente parte del suo modo di lavorare. Prima di entrare, e anche adesso, ha guardato bene che non ci fossero bambini nel negozio e che non ci fossero donne. Non ce ne sono. Allora ha aspettato un momento di calma, appena usciti gli altri clienti. Ha aperto la porta del negozio e quando il signor H.L. Gross lo ha guardato con sorpresa, ha tirato fuori una pistola, una bella Colt calibro 9 automatica, e gliela ha puntata dritta in faccia. Mani in alto, tutti. Il signor Gross, i signori Moss e Coned, impiegati, sicuramente meno convinti di lui, a voler rischiare di lasciarci la pelle. E anche il signor Gross, tutto sommato. Dalla porta aperta sono entrati altri due uomini, che l'hanno chiusa dall'interno, e hanno svaliggiato il negozio. Pietre preziose, diamanti, oggetti d'oro, anelli, braccialetti, tutto quello che si può portare via. Bottino 30.000 dollari di allora. Che sono un sacco di soldi e sarebbero parecchi anche adesso. Ciao a tutti e via. Il signor Gross e i signori Moss e Coned sicuramente non si sono dimenticati di quella faccia. Una faccia simpatica, a forma di prugna, da allineamenti marcati come quelli di un caratterista comico di Hollywood. Un ciuffo di capelli sulla fronte e un sorriso che sembrano appresi in giro. Li hanno sicuramente descritti alla polizia, che ha subito capito che era quel tipo con la sigaretta, il sorriso e la pistola. William Francis Sutton, detto Willie, il rapinatore. Se lo avessero saputo e se lo avessero conosciuto meglio, quel signore con la pistola, forse il signor Gross e il signor Moss e Coned avrebbero reagito. Il signor Gross sicuramente, visto che era il padrone. Perché avrebbero conosciuto anche la terza cosa che faceva rigorosamente parte del suo modo di lavorare. Non avere dentro il caricatore della pistola neanche un colpo. Scarica. Per non correre il rischio, come dirà in seguito, che qualcuno si faccia amare. I banditi che ci stanno simpatici di solito hanno alcune caratteristiche doverose. Sennò passano definitivamente dall'altra parte e diventano soltanto criminali. La prima è quella di essere una specie di robinud, cioè di rubare i ricchi, o meglio, di non rubare i poveri. Non è che sia bello neanche rubare i ricchi, per carità è un crimine, naturalmente non va bene, tutto quello che volete. Ma rubare i poveracci sarebbe proprio intollerabile. Diabolic, per esempio, funziona così. La seconda è che non si faccia male a nessuno. Nei film, per esempio, se a fare il rapinatore o il ladro c'è George Clooney, ma non quello di D'al tramonto all'alba, che è un palco di Tarantino. Quello della saga di Ocean Eleven, dove ci sono una serie di belloni e simpatici che devono essere buoni per forza. Ecco. Funziona se invece di essere un sanguinario sparatutto è un genio del furto con destrezza, organizzato fino nei minimi particolari e, appunto, senza che si faccia male a nessuno. Sparare a un povero commesso che tiene famiglia, ad un passante che non c'entra niente, o a una guardia che fa solo il suo lavoro, trasforma il nostro rubinud in Al Capone. E non funziona più. La terza caratteristica, facoltativa ma importante, è che in qualche modo il nostro rapinatore sia un perdente. Forse per rimettere a posto le cose con la morale, forse perché in effetti chi è più sfortunato, più ribelle contro qualcosa di più forte, più vicino a noi, che non siamo super uomini, ma gente più che comune, ecco, fa sempre più tenerezza e quindi è più simpatico. Conta per i personaggi della fantasia, ma soprattutto conta per quelli della realtà, per cui sono più difficili le correzioni di sceneggiatura. Ecco, Willie Sutton è così. Rapina gioiellerie, banche, grandi negozi, compagnie di assicurazione. Quando lo fa sta attento che non ci siano donne o bambini. E se ci sono, e se un bambino fa la faccia spaventata, una donna comincia a piangere o a strillare, lui molla tutto e se ne va. Certo ben girarmato. Perché, dice, non si rapina una banca solo con il fascino e la cortesia. E, dice anche, puoi ottenere di più con una parola gentile e una pistola, piuttosto che con una parola gentile e basta. Ma in ogni caso, il caricatore della pistola che punta, o la rotella del Mitra Thompson che imbraccia, sono sempre rigorosamente vuoti. E per finire, nonostante durante la sua lunga carriera, che va dal 1919 al 1952, abbia rapinato una cifra stimabile attorno ai 2 milioni di dollari, è sempre rimasto più o meno povero. E almeno la metà di quegli anni gli ha passati in galera. William Francis Sutton è un piccoletto dagli occhi vivaci, che parla in continuazione. Un simpaticone irlandese che vive a Brooklyn nei primi anni venti. Di mestiere fa il criminale, ma non il gangster, l'affiliato ad una delle gang che in quegli anni animano il crimine tra New York e Chicago, e che in genere sono formate prima da irlandesi, ebrei dell'est Europa, italiani, e poi solo da italiani di Cosa Nostra. Il piccolo Willy, lui vorrebbe che lo chiamassero Bill, ma la polizia e i giornali lo chiamano Willy, proprio non ci riesce a tenersi un lavoro normale. Quello più lungo dura 18 mesi, e così si mette a fare il criminale. Il primo colpo lo fa nel 1919, nel negozio di scarpe del padre e della fidanzata di un suo amico. La ragazza gli dà la combinazione della cassaforte, rubano 16.000 dollari e scappano tutti e tre con un'auto presa in affitto. E si fanno beccare una decina di giorni dopo. Gli va bene. Il padre della ragazza fa cadere l'accuso e lui ricomincia da capo. Si fa assumere alla Edison Electric Company e ruba 500 dollari da un ufficio. Lo beccano, ma non trovano abbastanza prove ad associarlo al furto e lo lasciano andare. Allora si mette con una piccola gang di rapinatori e scopre che è proprio quello il suo ramo, le rapine. Le studia con attenzione. Impara i trucchi del mestiere. Elabora gli strumenti, i piedi di porco, la fiamma ossidrica, tutto quello che serve per aprire una cassaforte. Elaborare i piani, raccogliere le informazioni. E' un teorico Willy, così bravo che scrive anche piccoli trattati sull'argomento, roba ad uso interno naturalmente, e tiene anche corsi per altri rapinatori. Infatti, i suoi colpi funzionano. Sia quelli che fa da solo, sia quelli che compie con un paio di amici. Lo chiamano Slick Willy, Willy il furbo, o il dritto, se sarebbe detto nel linguaggio di allora. E' Willy l'attore, perché si presenta alla porta degli uffici o delle banche travestito da fattorino del telegrafo, da poliziotto o da cliente, e recita così bene che gli credono tutti, e lo fanno entrare anche se sono chiusi. Oppure entra dal pavimento, da un tunnel scavato nel muro, o dal lucernario. Come fa con la Corn Exchange Bank di Filadelfia, che aveva già rapinato qualche mese prima nella sede di New York. Willy scende dal lucernario assieme ai suoi complici, aspetta fumando il suo tabacco Bull Duran, di cui è praticamente dipendente, e quando la mattina presto, arriva la guardia per aprire la banca, fuori le pistole. Naturalmente, scarica. Anche se compie le sue rapine senza proiettili, perché così non si fa male a nessuno, un poveraccio morto ammazzato sulla coscienza, anche se così indirettamente da non sapere neppure che è successo, Willy ce l'ha. Willy finisce dentro molto spesso. Lo arrestano almeno una decina di volte. Scappa. E' famoso anche per questo. Nel 1934 lo mettono nella Easter State Prison di Filadelfia, dove dovrebbe rimanere dai 25 ai 30 anni. Ma lui si fa una pistola finta con il sapone. Prende in ostaggio una guardia e gli fa tenere la scala mentre scavalca il muro. Lo riprendono. Lo condannano a vita. E lo mettono nella Country Prison di Homburg, sempre a Filadelfia. Ma lui ruba le divise delle guardie, si travesta insieme ad altri detenuti, e semplicemente una notte se ne va. Quando il faro delle guardie è sul muro, lo illumina, mentre attraverso il cortile Willy fa un cenno di saluto, dice tutto ok, quelli spengono il faro e lui sparisce. Lo riprendono ancora. Oltre alla condanna a vita gli danno altri 105 anni. Assurdità del sistema giudiziario americano. E questa volta lo sbattono nella prigione di Manhattan, mello conosciuta come The Tomb, la tomba. In tutto, Willy passa almeno la metà della sua vita dietro le sbarre e lì dentro, ovviamente, conosce un sacco di gente. Siccome è simpatico, chiacchierone e gentile, e soprattutto insegna volentieri i trucchi del mestiere, ed è diventato anche esperto di legge dalla parte dei criminali, diventa amico di tutti. Soprattutto di un gruppo di detenuti di origine italiana molto uniti, la mafia italo-americana di Cosa Nostra. I mafiosi prendono in simpatia Willy, che da quel momento diventa un intoccabile, se mai qualcuno avesse pensato di fargli qualcosa in carcere. Poi Willy scappa per una delle sue innumerevoli fughe, e finisce nella lista dei most wanted ricercati dell'FBI, non tra i primi dieci ma i undicesimi. Nel 1952, mentre sta prendendo un treno della metropolitana, Arnold Shuster, un tipo che vende vestiti, ma che per passione fa il detective dilettante, e si studia le pubblicazioni dell'FBI, lo riconosce, e lo denuncia la polizia. Willy finisce dentro, nella tomba di Manhattan. E c'è qualcuno a cui dispiace così tanto per quell'omino così simpatico, Willy Bello, e siccome questo qualcuno è Albert Anastasia, vicecapo di una delle cinque famiglie mafiose di New York, fondatore dell'anonimo assassini, ecco che un giorno il povero Shuster si ritrova davanti due tizi che lo riempiono di piombo. Alla fine, il nostro Willy non lo fa, il suo ergastolo più 105 anni. È diventato un detenuto modello, e intanto si è anche ammalato di cancro ai polmoni, con tutte quelle sigarette fatte in casa che si è fumato, per cui nel 1969 lo lasciano andare. Passa il resto della sua vita tranquillo, rilasciando interviste, fondando una legge fondamentale per lo studio della medicina, The Sutton Law, la legge di Sutton la chiamano. Deriva da una frase che gli è stata attribuita, come risposta ad un giornalista che chiedeva perché rapinava le banche, perché i soldi sono nelle banche, avrebbe risposto Willy. E questo viene preso come un principio fondamentale della diagnostica, insegnato anche nelle università. Prima di tutto, pensare alla cosa più ovvia. Ma questo Willy non l'ha mai detto. Non avrei risposto così, ha detto un'altra volta in un'altra intervista. Sì è vero, i soldi stanno nelle banche, per cui se vuoi rapinarli, devi rapinare una banca. Ma non è per questo che io lo facevo. Io, dice Willy, rapinavo banche perché mi piaceva.